Perchè vi confondete agitandovi, lasciate a me la cura delle vostre cose. Non vi ho detto che un atto di vero e completo abbandono in me. Produce ciò che chiedete, quello che vi sconvolge e vi fa un male immenso. E il vostro ragionamento, il vostro pensiero, il vostro volere provvedere voi a ciò che mi infligge. Ma quante cose ho per io, quando voi vi abbandonate a me. Io spargo i miei tesori di grazia quando siete nella povertà. Perchè vi confondete agitandovi, lasciate a me la cura delle vostre cose. Non vi ho detto che un atto di vero e completo abbandono in me. Produce ciò che chiedete. Voi siete insonni, voi volete tutto valutare, tutto scrutare, tutto pensare. E non vi ho detto che un atto di vero e completo abbandono in me. L'anima si volge a me, mi guarda dicendo, mi pensa, ci tu chiude gli occhi e riposa. Perchè vi confondete agitandovi, lasciate a me la cura delle vostre cose. E non vi ho detto che un atto di vero e completo abbandono in me. Produce ciò che chiedete. Grazie a tutti.